ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri orologissimi oh eccoci qua a noi ci piace tanto questa rubrica questo format che ci fa vedere un po' di orologi nuovi vecchi e nuovi in tutti i sensi sia vintage che moderni sia visti e rivisti che poco visti a volte ci capita di vedere qualche orologio che io stesso dico ma questo orologio non l'ho mai visto ma che roba è è tutta cultura tutte nozioni che si mettono nel bagagliaio nel bagagliaio culturale fa comodo poi è anche divertente scivola via veloce poi mette in primo piano voi siete voi che diventate i protagonisti e questo mi fa piacere perché il canale vabbè è mio l'ho pentato io lo gestisco io come si suol dire però siete voi che lo animate sia con i commenti sotto i video sia con guardandoli perché se nessuno riguarda non c'è senso e poi partecipando finalmente potete partecipare ora l'orologio del giorno oggi è siamo d'estate è questo bellissimo long jean skin diver con il suo bel nato arancione e questo qua d'estate sulla pelle abbronzata fa il suo sporco lavoro proprio attira gli sguardi sembra quasi un tool watch non che non lo sia però insomma non ha nemmeno la ghiera luminescente se non sbaglio vabbè tanto per quello che serve a me la ghiera bello però cioè ci ho messo al nato chiaramente single pass ho tagliato uno spezzone che non serve il moncherino che non ci piace niente e così diventa bello sottile al polso vedi 42 mm sta benissimo sta benissimo a riprova che si possono indossare i 42 mm di questo i 42 mm del Seamaster di Omega i 39 del Legend Diver insomma a seconda di quello che si vuole i 40 mm del mio bellissimo Oris Diver 65 39, 40, 42 non c'è problema si indossano non è che bisogna fossilizzarsi su una misura e non muoversi da lì questo l'abbiamo capito ormai guardiamo il primo video la barra spaziatrice qua pronta a subire colpi del destino e noi con il nostro indice glieli chiocchiamo al volo fuoco ciao Davide e cari amici followers adesso ti faccio vedere la collezione di orologi del mio fidanzato in un po' di video visto che usano i guanti io ho trovato questi quindi spero vadano bene cosa sono? andiamo in ordine temporale e il primo è questo che gli hanno regalato al sud e centesimo compleanno mamma mia guarda si gira si gira sì top il bracciale in acciaio è molto bello è molto comodo mamma mia che bello bello assai ecco ora bracciale in acciaio bello bracciale braccialato con il bracciale in acciaio non lo so se lo prenderei con il bracciale in acciaio ora non lo so non lo so a me piace quel cinturino però vederlo un po' così magari ci sta anche con il bracciale cosa dite voi gegele cutre reverso con il bracciale è promosso o è bocciato è promosso sempre perché basta cambiare e mettere il cinturino però cosa dite voi a gennaio dopo dieci anni ha comprato questo e lì è iniziato il problema l'unico di cui sa il nome è Lemiton Kaki Field con questo cinturino verde militare e sta molto bene quando mette la camicia di jeans sta molto bene quando mette la camicia di jeans signorina su Dave non possiamo ridurre la funzione di un orologio a complemento di abbigliamento di moda sta bene è l'unico di cui sa il nome secondo me lui ti ha messo lì a fare il video contro contro voglia ti ha obbligato in modo da guadagnare qualche perché sa che io poi mi si apre il cuore quando sento una voce femminile mi si apre il cuore e quindi per guadagnare qualche punto nella votazione hai detto vai vai faglieli vederti ma te non conosci nessun nessun orologio quindi stiamo facendo una figura barbina diciamo la verità è a carica manuale come è questo e mi piace perché ha il quadrante che si legge bene ah sì quello sì brava poi ha comprato questo che è uno swatch è un orologio in cui non si legge l'ora è molto divertente e ha il bracciale originale e è molto sbarazzino è sbarazzino poi questo qui gli ero regalato io per San Valentino questo mi piace perché gli piaceva è particolare con il quadrante quadrato e rosa è molto simpatico è al quarzo come questo sì e come dicono tutti qua fai il suo fai il suo però guarda ti devo dire la verità a me questo orologio non mi ricordo nemmeno come si chiama questo swatch qua if if non mi ricordo va bene mi piace questo quadrato mi piace e rosa ha senso gli hai regalato un die per San Valentino io ti dico la verità avrei tranquillamente il coraggio tra virgolette di indossarlo così tutto rosa senza problemi anzi dimostra uno dimostra di saper indossare con personalità delle cose degli oggetti senza esagerare però rosa io sì lo indosserei soprattutto se è un tuo regalo o dolce fanciulla poi ad aprile da un caro amico del canale ha comprato questo lanco con la stellina perché gli piaceva molto il quadrante è a carica manuale è degli anni 60 tenuto molto bene e questo ha un solo topolino che indica i secondi cos'ha? poi ad aprile ha comprato anche questo che è un orologio con la piovra e guarda luccica no ha la ghiera che gira è molto pesante ha il quadrante in pietra è automatico l'avventurina che l'ha comprato per andare al mare perché è un diver brava e infine per festeggiare il suo compleanno e l'assunzione al suo nuovo lavoro si è comprato questo che è un Cartier Santos con orgogna senza i numeri è bellissimo al sole soprattutto e mi ha detto che la scatola non è quella originale e anche il bracciale non è quello classico con la chiusura di Cartier è automatico e li ha comprato perché gli piaceva molto mi piaceva molto va bene poi basta oh questi erano gli orologi del mio fidanzato spero che vi siano piaciuti Davide spero che smetta di guardare i tuoi video perché negli ultimi sei mesi ha speso fin troppo però come ultima cosa volevo chiedere un consiglio perché vorrei regalargli un orologio con tre topolini messi a faccina e volevo chiedervi quale potrei comprare cosa sono i tre topolini messi a faccina io non ho capito ragazzi non ho capito tre topolini messi a faccina prima il lanco ha detto che c'era il topolino c'era il topolino non lo capisco io mi sta prendendo un giro cosa sono i tre topolini messi a faccina non lo so ragazzi va bene mi arrendo allora niente gli diamo un bel otto la collezione è un otto hai due orologi di pregio classici il Gégé Lecoutre e il Cartier Santos anche se quei Santos a me non piace proprio così oddio a parte che si vede che è vissuto poi senza i numeri senza punti di riferimento Braciale ha detto che non è suo non vorrei fosse una crocchione spero che sia tutto a posto comunque e poi gli altri orologi che avevi quello con la piovretta è il foibos l'orologio con la piovretta che luccica e che la ghiera che gira la descrizione della ragazza qua è stata magistrale proprio come tecnicamente ineccepibile bello un bello orologio ma cosa c'aveva poi cacchi field a carica manuale ottimo anche quello e niente è un bel lotto te lo sei meritato dai il lanco lì non lo so quelle faccine di topolino io dove vanno prese non ho la più pallida idea mi dispiace tanto però ah sì poi i due svolcini c'erano anche i due svolcini beh è un bel lotto te lo merezi sì 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 dai prossimo video ciao Davide ciao un saluto da Riccardo dal meraviglioso Salento ma il mio accento tradisce origine apuane essendo nato a Carrara e vissuto a massa per 40 anni ah bravo velocemente vorrei farti vedere i pezzi più significativi della mia collezione dove ho voluto inserire orologi diversi o per caratteristiche estetiche o per complicazioni in modo da non avere dei doppioni ah iniziamo dai primi due che sono un regalo di quella che sarebbe diventata mia moglie il primo è un Eberhard replica con cassa in argento dei primi anni 2000 argento? un cronografo manuale pointer date pointer date monta un calibro Valjoux 77-61 è un orologio che non si vede spesso sui canali tematici ma che ritengo essere un pezzo di notevole fattura elegante anche se molto delicato ed è un pezzo che è appena tornato da una riparazione in casa madre e me lo hanno restituito praticamente nuovo ecco l'esempio di quando si dice che non gli orologi che non si vedono l'ho detto prima eccolo qua questo qua è un orologio che non si è mai visto ma hai visto in vita mia questo orologio qua tra l'altro la cassa in argento è pulitissima lucida l'hai lucidato prima di fare il video come si lava la macchina o prima di andare la domenica in giro oppure loro in casa in casa madre non so dalle mandato te l'hanno lucidato per benino te l'ha rimato così ma l'argento si opacizza velocemente quindi un pochino di però va bene oh contento te contenti tutti nel senso che è un bello orologio io non lo vorrei però capito cosa voglio dire non fraintendermi non è che ti do contro orologiaccio 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 è troppo complicato per me troppo però bello passiamo a un buon mercier hampton city oh ma un cronografo automatico che monta un calibro 2894 con cassa rettangolare di 46 mm in acciaio mamma mia sempre dei primi anni 2000 eh vabbè ho cambiato recentemente cinturino ed è un orologio sicuramente che non passa inosservato che nonostante per mia mancanza non sia mai stato revisionato tiene ancora il tempo in modo eccellente bravo brutto è però dai lasciamelo dire disolvenza un nomos bravo questo è bello club campus 38 mm con cassa in acciaio small seconds una versione con quadrante purple che insieme al rosso delle lancette di piccoli secondi assume secondo me un fascino particolare bravo è un orologio elegante e molto sottile monta un calibro alfa carica manuale di manifattura nomos e devo dire che al prezzo a cui è venduto non si trovano in giro molti orologi con calibri in alto veramente peccato per il quadrante di california lì numeri romani arabi non mi piace però Mido Multifort TV Big Date cassa quadrata monta un calibro 80 automatico ho scelto il quadrante blu e devo dire che quello che colpisce è la lavorazione del quadrante stesso elegante sportivo per me ha un rapporto qualità prezzo validissimo inoltre la scelta del Big Date è molto utile a persone come me che spesso sono senza occhiali e quando vogliono vedere la data sull'orologio sono dolori questo è vero la Big Date così è facile da vedere come ad esempio quando indosso il Rolex Datejust con la lente magnificatrice è veramente utile può essere anche brutta vedersi ma sarà inventata un motivo ci sarà e ci sarà sì dopo 40 anni Wikipedia dice che non si riesce più a mettere a fuoco da vicino non si scappa da lì quindi le date meno basta ma non ce l'ha la data le date piccoline sono inutili diventano inutili in un orologio a meno che non c'hai vent'anni e vedi anche così ora questo orologio qua la particolarità è che quando fu presentato due o tre anni fa mi fu mostrato in anteprima c'era il direttore di Mido e il rappresentante di area lo presentarono e io veramente magari fece anche una figuretta un po' così glielo dissi in faccia che non mi piaceva che era da scartare ci rimasero anche male però poi dopo due anni dopo quando è uscito quello Big Date a un certo punto io a quel punto lì ormai mi ero a suo effatto e l'ho rivalutato completamente veramente un bello orologio promosso al 100% anche se c'è un po' qualche reminescenza così Nautilus però non c'entra niente proprio bello un bello orologio soprattutto in quella versione lì quella che ho presentato io in edizione limitata con il quadrante come il monoscopio quella lì è veramente con quel cinturino colorato in estate fa tanta roba comunque è bello anche questa versione qua così sobria da ometto bello bello sto parlando troppo ma vabbè ci sei adesso un classico occo canto tagoyer carrera calico 5 day date automatico un orologio stupendo eh sì costruito in modo impeccabile robusto ma non troppo pesante almeno per me elegante ma sportivo elegante ma sportivo insomma un everyday watch di tutto rispetto bravo inoltre il quadrante blu che assume varie tonalità alla luce gli dà una marcia in più uno dei miei preferiti io preferisco quello da 39 con la data ore 6 quello lungo cuervo il sobrino si storia d'oro bello questo bravo asturias quadrante negroni automatico negroni calibro cis 51-24 base la jupper g100 anch'esso molto delicato soprattutto per quanto riguarda l'esposizione all'acqua si fa notare sicuramente quando è indossato molto sottile ma secondo me quello che è il suo punto debole è la fibbia bella sicuramente ma molto ingombrante sotto le camicie dà un po' fastidio sotto le camicie ma sto qua non è un orologio da indossare sotto la camicia nel senso no te lo vedi così abbastanza ma è barocco non lo vedi che ansia che ha la fibbia veramente vistosa cioè non è un dress watch non devi scambiare 40 mm non devi nemmeno scambiarlo per un dress watch che deve entrare sotto la camicia ma lì quando andrò sicuro lì la camicia te la ci fai risvoltini ci fai risvoltini e te la e questo qua lo fai vedere no e che punto debole è passiamo ai pilot pilot laco memmingen quadrante tipo A calibro laco 210 base sellita 210 essenziale e molto luminescente come devono essere i flieger ho scelto la versione manuale perché volevo un flieger il più simile possibile all'originale degli anni 40 giusto lo so potevo spendere meno con l'automatico ma non sarebbe stato lo stesso esatto hai ragione hai ragione te la do vinta poi Hamilton Kaki Pilot Aviation Day-Date calibro H40 automatico è uno dei due orologi del film Interstellar e me ne sono innamorato vedendo appunto il film bravo un pilot con quadrante di tipo B ed è un orologio dal rapporto qualità prezzo eccezionale robusto compatto fatto molto bene e portabilissimo 42 è l'orologio in assoluto che indosso di più bravo ed è dal mio punto di vista consigliatissimo siamo contenti poi passiamo ai divers Seiko Prospex GMT Save the Ocean serie limitata calibro 6R54 referenza SPB 385J impermeabilità 200 metri un diver pesante ma molto robusto e con un quadrante color ghiaccio che l'estate al sole si fa notare molto in spiaggia l'ho usato tutta l'estate scorsa in modo intensivo e nonostante tutto neanche un graffio materiali assolutamente di primo ordine si graffia anche lui non è che è ingraffiabile però un altro diver molto bello è questo Christopher Ward Trident C60 modello Tide che monta un sellita sv200 certificato COSC e presenta un'impermeabilità dichiarata di 600 metri 600 è un ottimo orologio anche se un po' pesante al polso 600 metri la luminescenza ottima al buio non si limita solo alle lancette o agli indicatori ma anche al fondo del quadrante che assume aspetto ondulato molto particolare ah si Christopher Ward è un'azienda che ha iniziato come micro brand sappiamo ma che si sta facendo sempre più strada con orologi di ottima qualità eh certo te l'appoggio bravo andiamo la fa vedere ancora un po' uuu in ultimo ma non certo per importanza Omega Seamaster Professional 300 Quax calibro 8800 sul quale non spendo parole perché più volte è stato citato in questo canale un orologio che è una chicca e non dovrebbe mai mancare una collezione e bu beh prossimamente spero di prendere uno Speedmaster bravo vediamo bravo con questo concludo spero ti siano piaciuti e che pubblichi questo video si lo pubblichiamo ti saluto alla prossima alla prossima alla prossima guarda lì sto Seamaster qua che ce l'ho anch'io sembra che il vetro non ci sia è veramente trasparente riesce a percepire il quadrante che è in ossido di zirconio in ceramica il vetro non si vede il quadrante è quasi metallico ti spara fuori quelle ondine così bellissimo il Seamaster 300 è uno è uno degli invendibili diciamo così poi se vado a finire sotto a un ponte vendo anche quello però beh dai 8 come voto della collezione perché ci sono un sacco di orologi simpaticissimi abbiamo visto l'Eberhard il Nomo Simido Carrera Quervo e Sovrino Slaco il Laco lì è fatto bene a scegliere quello più costoso con il calibro Sellita SV210 a carica manuale si vede la differenza tra i modelli base e quelli più costosi si vede anche così a occhio nudo appena l'hai tirato fuori come direbbe Rocco Siffredi e l'ho visto che era più pregiato si capiva si percepiva 8 una bella collezione di orologi e poi vorrai prendere lo Speedmaster e te lo meriti dai ci sta nella collezione uno bello Speedmaster ci sta i secoli che hai fatto vedere anche io ne ho recensito uno con il quadrante così Ice ghiaccio che è veramente spettacolare a volte a fare i quadranti così rugosi si rischia di andare un po' nel plastichino dell'effetto plastica e invece i secoli fa bene un po' come Gran 6 con le giuste proporzioni va bene dai prossimo video ciao Davide io sono Michele e niente volevo far vedere a te agli amici del canale lo stato attuale della mia raccolta che ormai penso abbia attorno ai 4-5 anni e da quando mi sono appassionato non riesco più a smettere di comprare orologi questo penso sia un problema comune si ma a ridere c'è poco da ridere questo è il primo orologio che ho acquistato tra tanti di un Orient referenza RA AC0 E01B bravo è stato il primo orologio che ho acquistato da quando da quando mi sono appassionato agli orologi è automatico nulla di eccezionale in realtà però ha un grandissimo valore affettivo per me perché questo orologio lo regalai a mio nonno nel momento in cui gli si ruppe il suo utilizzando io la scusa per comprarne un altro e niente mio nonno l'ha maltrattato certo ho fatto bene però la realtà è che ora che mio nonno non c'è più questo orologio mi ricorda di lui e mi fa un immesso piacere di averlo tra le mani perché è un oggetto a cui tengo molto e mi ricorda mio nonno passando quindi all'acquisto seguente a quello dell'Orient ebbè si è notato bene è questo Mido Ocean Star Captain che monta un calibro Powermatic 80 qui calibro 80 definito un diver solidissimo che nonostante tutto ora che la mia passione è cresciuta le mie conoscenze sono ampliate e anche la mia collezione si è ampliata un po' continua a piacermi e continua a indossarlo magari non con la stessa cura di prima quindi magari questo è un po' un orologio da più tutti i giorni che però continua a piacermi e non mi lascia mai a piedi solido robusto le finiture ottime la class con la regolazione rapida nel caso mi venga la malsana idea di andare a fare immersioni e niente penso sia un orologio che si possa consigliare a tutti a tutti i neofiti di questa ai neofiti dell'orologeria perché è veramente un carro armato passando al prossimo che acquista in concomitanza più o meno pochi mesi dopo l'acquisto del Mido è questo Seiko 5 la versione Fieldwatch che mi ha fatto rendere conto di una simpatica cosa che sul mio polso gli orologi piccoli mi stavano meglio di un 44 mm e un 42 mm e quindi nel momento in cui ho indossato questo Seiko per la prima volta mi sono detto cavolo ma forse farei meglio ad andare su orologi un pochino più piccoli tant'è che hai seguito l'acquisto poi di questo Christopher Ward C65 C65 Trident Vintage MK2 un nome infinito sì questo qua me lo ricordo perché è uno di quelli che avevo adocchiato anch'io a volte metti linee preferiti questo marchio qua sì questo qua questo qua se lo trovo magari usato guardiamo C65 mi ricordo che l'avevo messo lì da parte perché è semplice perché è il classico orologio che piace a me cioè così fatto così semplice ora notavo anche prima l'Ocean Star che è un po' datato datato relativamente rispetto a quelli che stanno uscendo ora che escono ora come una volta più o meno tutti i quadranti erano abbastanza più più lineari più semplici anche quello lì dell'Ocean Star era proprio opaco semplice piano piano senza lavorazione senza un qualcosa da attirare l'attenzione sembrava quasi vuoto no come questo qua ora giorno d'oggi siamo arrivati appunto fateci caso che i quadranti se non c'è qualcosa di solelo qualche righettina qualche lavorazione verticale orizzontale non li prendiamo nemmeno in considerazione quasi dico quasi perché a me piacciono piacciono ancora i quadranti così semplici questo non ne ho visti in giro sul canale ce ne sono molto pochi in giro perché a quanto pare si trattava di un'edizione limitata di questo orologio che ha delle ricorda ricorda alcuni diver vintage però è molto unito e fusionato al moderno finiture Christopher Ward eccellenti bracciale è veramente veramente splendido tutte le finiture per un orologio da poco più di 1000 euro sono veramente eccezionali sono a livello di quelle di marchi più blasonati Christopher Ward che secondo me con le ultime uscite sta cercando di ampliare la sua collezione nel modo migliore possibile e sta diventando molto variegato se devo dire la verità quindi ultimamente non mi fanno più molto impazzire le uscite di Christopher Ward però se fanno questo sicuramente a qualcuno piacerà il primo orologio costoso tra virgolette che ho acquistato è questo Omega Speedmaster Reduced del 1998 perché Reduced perché ho provato in boutique lo Speedmaster Professional e per quanto mi entusiasmi la sua storia purtroppo non me lo vedo al polso non trattandosi di un diver e molti mi diranno si è un cronografo è vero però quei 44 mm non so 44 veramente mi stavano mi stavano troppo grandi e ho optato quindi per la versione Reduced del 1998 appunto anche perché è il mio anno di nascita e nulla sono molto soddisfatto è tenuto in ottime condizioni adesso è difficile magari farle vedere qui in camera il plexiglass l'ho lucidato con un po' di un po' di poliwatch ed è veramente in ottime condizioni bene e da quando l'ho comprato poi non l'ho più non l'ho più tolto è veramente veramente spettacolare per quanto mi riguarda i 39 mm sono anche perfetti ho visto un video in cui dicevi dove era un po' strabico e a vedere invece a me il Moonwatch Professional mi sembra quello strabico penso sia questione d'abitudine l'ultimo arrivo anche di questi non ne ho visti molti sul canale devo dire la verità è questo Tudor Blackpink GMT che mi ha fatto innamorare questo il complesso di questo orologio ho sostituito il suo centurino originale con uno strap nato blu al quale ho tolto il secondo il secondo passaggio perché altrimenti diventava veramente ingombrante 42 mm penso che sia il mio massimo che riesco a farmi piacere su un orologio che non sia un diver le sfere a fiocco di neve tutto ciò che è di Tudor io penso sia presente in questo orologio la paletta i colori si è quella del Pepsi per quanto mi riguarda non è stato insomma di alcun aiuto il fatto che fosse ricollegabile a Rolex perché questo orologio mi piace per quello che è mi sembra di aver detto tutto un saluto ciao 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 bella collezioncina di orologi simpatici simpaticissimi che parte dal mido per arrivare a secco 5 Christopher Ward l'Omega Reduced per fare poi il botto con il Tudor GMT che è un bel mattoncino il Tudor GMT dai un bel set e te lo do in collezione di collezione un bel set oltre a sufficienza diciamo che il tuo pezzo migliore appunto è il Tudor GMT anche se il mido va a finire così che te prendi un orologio ha preso il mido Ocean Star lo usi lo strausi a quel punto diventa il tuo il tuo muletto il tuo everyday watch il tuo orologio da indossare senza timore senza remore eppure è un orologio insomma che costicchia non è un orologio da 100 o da 50 euro che ti prendi per e può succedere così come ad esempio a me il Loris Diver 65 l'ho indossato talmente tanto e talmente intensamente che è diventato un pochino così l'orologio veramente da tutti i giorni da utilizzare anche senza preoccuparmi di rovinarlo a un certo punto poi decidi veramente che quello lì lo terrai per sempre anche perché solitamente avrei anche vergogna avendo un orologio rovinato vissuto fra vent'anni magari avrà anche un senso ma così dopo qualche anno vissuto non ha senso venderlo è meglio farlo completamente tuo e portarlo fino alla morte sua non mia sua un altro giorno c'era un ragazzo sul gruppo Telegram diceva il suo orologio che appena appena preso non mi ricordo che cos'era gli hai dato un colpo e si vede una scheggiatura sulla lunetta e gli ho detto perfetto qual è il segno del destino quell'orologio lì da ora in poi lo terrai sempre te diventerai invendibile e lo dovrai utilizzare quotidianamente come orologio da battaglia funziona anche così è il destino che ti porta con quell'orologio l'hai usato tanto l'hai quasi rovinato da che diventa tuo diventa tuo per sempre no? sarebbe bello dirlo per ogni orologio però sappiamo benissimo che noi se vogliamo sfamare la scimmietta che è qua sopra ogni tanto qualche orologio va venduto per comprarne altri perché la scimmietta non se ne accorge te gli vendi l'orologio sotto banco è così guarda di là guarda di là e te vendi l'orologio sotto banco non glielo dici che l'hai venduto perché se no si ammazza questa e poi ne compri un'altra e quando lei lo compra lei è contenta è come se gli dessi la nocciolina e quindi te gli fai vedere l'orologio non sa mica che hai venduto quell'altro si fanno questi scambi si vende si compra hai capito ciao Davide sono attorno della provincia di Vicenza Vicenza e oggi ti mostro la mia piccola collezione partiamo con il primo vai questo festina è un quarzon però ci sono affezionato perché è stato un regalo da parte di miei nonni per la comunione ma certo e quindi lo tengo come ricordo affettivo fai bene bravo non l'indosso più dopodiché passiamo al primo automatico seguendo anche un po' i tuoi video è questo semplice orient trista è molto carino mi piaceva molto per per il quadrante che è molto particolare ha dei bei riflessi di luce è un 37 mm ed è anche molto fino come spessore leggero molto leggero dopodiché il secondo che presi è questo Vostok bellino a ghiera al quale ho cambiato ghiera sempre originale però mi piaceva di più con così nera così cinturino cinturino nato semplice bello insomma l'ho indossato parecchio infatti gli strisci si vedono gli strisci gli strisci con una vite 200 metri sì carino versatili insomma diciamo che lo spessore forse è la nota dolente perché sono 15 mm però tra l'altro il vetro è bombato quindi guarda lì ciccione però lo indosso con piacere bravo il prossimo è sempre un orient ah sì 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 l'ho recensito anch'io con un quadrante nero volevo un orologio più elegante anche se non si può definire un dress watch in quanto il diametro cassa è di 40 mm e comunque il quadrante è molto follato avendo anche una complicazione in più è carino è leggero ci ho cambiato il cinturino cioè il suo bracciale con questo cinturino però sì non posso è elegante ma non posso definire un dress watch quello mi manca stavo valutando a un non young guns magari più avanti vedremo bravo e il prossimo è il successivo questo secco 5 sports volevo le SKX però dire il vero con prezzi esorbitanti da quando appunto è uscito dalla produzione però sinceramente di Subacme ne ho altri questo lo volevo più che altro per la cassa e lo stile dell' SKX tra l'altro questo è GMT mi piace parecchio lo indosso l'interno vabbè il fondello a vista non mi dispiace sinceramente mi riguardo e se non è offita fa piacere anche vedere queste cose qui ecco ecco eh no ti capisco è comprensibile è giustificato è accettabile che uno prenda questi nuovi secco 5 con la cassa slim perché gli ricordano il secco SKX con la cassa slim quello da 300 metri di imprendibilità è comprensibile non c'è niente di male eh l'hanno fatta apposta sicuramente sono meno prestazionali però hanno sempre il loro perché poi questo qua è un GMT addirittura e comunque vi ricordo che con i 100 metri e con la grona pressione al mare ci si può andare a fare il bagno l'acqua non è il nemico eh dei 100 metri dopo di che questo che è stato il mio ultimo acquisto bravo ProMaster Marine di qualche settimana non c'è una settimana fa Citizen Marine è veramente affascinante affascinante con degradé sul dall'arancio verso sì il nero e ruvido anche ruvido bello insomma mi sono innamorato lo spessore sì il lag to lag è importante di 50 mm però io nonostante ho un abbia polso 17 calza comunque bene va bene è bello è bello veramente bello fondello chiuso ho preferito questo cinturino e non il bracciale perché ne avevo già comunque tanti braccialati diciamo tanti sì no ho un altro subacqueo col bracciale e questo comunque lo preferivo un po' più sportivigiano sportivo ecco mi sembra mi sembra che hai dei problemi di locuzione sei un pochino impedito insomma diciamo così perché va bene è il discorso che facevo prima ora ti sei lamentato del lag to lag di 50 mm ma sti orologi prendiamoli per come sono prendiamo quello che viene poi si possono indossare orologi da 39 come da 42 con il lag to lag di 50 questo qua è più di 50 quello è 50 questo qua sarà anche 52 non so quante ma alleanze lunghissime e un giorno si indossa questo per un periodo poi si può indossare quello più piccolino non troviamo giustificazioni però sì però è grosso però sul mio polso e sono orologi sono orologi subacquee come dici te subacqueo è subacqueo dopo di che abbiamo la mia punta di diamante bravo questo mido ocean star tribut e niente qui poche parole lo amo è powermatico 80 non sbaglia un colpo e qui ho veramente compreso la definizione di orologio svizzero cioè preciso come un orologio svizzero questo non sbaglia cioè sempre sempre sul pezzo insomma è veramente bello lucido e dopo abbiamo l'ultimo che è l'orologio della mia ragazza sempre un orientista bravo lei in questo caso con quadrante nero bellissimo e lo indossa sempre è innamorata di questo orologio infatti è molto vissuto ormai ce l'ha da due anni questi orologi qui il bello è che si portavano a casa con un 70 due anni fa quindi veramente era fantastico purtroppo sono cambiate le cose ecco questo è quanto ecco questa è la mia collezione e l'ultimo è questo citizen che però devo ancora capire se il quadrante è stato ristampato se è originale io l'ho aperto il movimento sembra il suo è stato un acquisto impulsivo in una bancarella però non mi è stato detto nient'altro tra l'altro il suo bracciale non è non è nemmeno il suo è di un orient mi sembra funziona per funzionare non sbaglia neanche tanto però devo capire un po' ci sto indagando ecco se qualcuno sa se questo è originale io non penso che facessero del falso dei falsi negli anni 70-80 riguardanti citizen soprattutto non è un marchio così blasonato ecco vabbè questo è quanto grazie mille Davide continua così è sempre bello vedere i tuoi video ciao a tutti e ciao Davide ciao ciao adesso riprendiamo la fotografia un attimino perché ragazzi eccola qua allora questo qua è un accrocchion è un accrocchion secondo me secondo me è un accrocchion perché lo si vede sul quadrante che c'è la scritta japan made e l'ho detto in tanti video non viene utilizzata che la scritta japan made fa un po' il verso swiss made solito seico i giapponesi scrivono made in japan non japan made e in questo caso qua poi c'è anche la finestra data tonda che è un quadrante di fantasia sono gli indiani che fanno queste cose fanno questi orologi facci qua questi poi non si capisce guardate dici il bracciale dell'orient l'orologio un citizen l'hai aperto il calibro e sembra quello se è un miota 8000 potrebbe essere anche un suo clone ma comunque potrebbe essere anche il miota 8000 perché quando prendi il secco accrocchion dentro c'hanno l'nh35 7s 26 quello che è questo qua secondo me è un accrocchione il quadrante di fantasia completamente inventato anche la lancetta rossa così plasticosa non è che mi fa tanto l'idea di esser cioè secondo me tanno un po' tanno un po' tourlupinato tourlupinato si dice poi per il resto bella collezione belli orologi se non è offita tutte scelte degne di valore diciamo così un bel set e non te lo toglie nessuno un bel set e la collezione con l'ultimo orologio il mido ocean star tribute bello assai con quei bracciali lì che è bellissimo io c'ho la versione quella gmt che è uscita quest'anno e c'è il bracciale così però tutto satinato tutto satinato che non l'ho mai usato perché nella scatola c'è il nato e ho messo sul nato io una volta a me i nato non mi piacevano una volta ragazzi non mi piacevano poi ho cominciato a rivalutarli ci ho messo sul nato a quel gmt lì dell'amido mamma mia mi fa un figurone al polso che è al fine del mondo quindi il bracciale ce l'ho lì a parte a parte e niente ben set prossimo video ciao davide ciao sono dario dalla provincia di roma ti seguo da un paio di mesi mi fai spaccare dalle risate imparo sempre qualcosa di nuovo quindi bene o male grazie per tutto quello che fai grazie per il tuo canale grazie di esistere veramente mi regala dei momenti di leggerezza anche di di interesse puro vado con la mia collezione partiamo da dei ciofegoni al quarzo che ho preso anni fa tanti anni fa perché parliamo di roba che ho da quasi 20 anni un astroavia preso su su ebay se non ricordo male pochi euri un festina cronobike un altro festina cronobike un po' più recente con degli inserti in carbonio questi sono i festina che ogni anno più o meno la casa fa per il per omaggiare il tour de france diciamo così brutti eh un timex expedition che mi ha regalato mia moglie qualche anno fa bello è bello che sinceramente mi piace anche più degli altri questi sono orologi che utilizzo utilizzo la battaglia ecco diciamo lavori di casa quando voglio indossare un orologio senza avere pensieri se magari sbatto il braccio sto facendo qualcosa di un po' più più impegnativo sto tagliando il prato sto potando le piante in giardino cose di questo genere mi metto uno di questi sto tranquillo funzionano fanno loro e è finito qui c'è anche io io c'ho due timex expedition anzi un expedition è uno che non so che modello sia mi sa che la cassa uno c'ha la cassa in resina quell'altro c'ha la cassa sicuramente in ottone cromato sono economici però mi piacciono i due timex al quarzo per determinate situazioni che poi non trovo mai non li dosso mai però potrebbe tornare utile infatti uno lo portai anche a mio padre quando ne aveva bisogno ora che mi ricordo è quello lì sì che lo vedi che il timex è leggibile quegli altri due della festina sembrano dei robot dei transformer non si capisce l'ora se li indossi mentre fai dei lavoretti o mentre stai a fare qualcosa di pericoloso no un colpo d'occhio lì prima che hai capito che ero il suo nome viene notte al polso vediamo se riesco bello Omega G-Nave del 1969 bello al trizio al trizio dovrebbe vedere la T credo sì questo era di mio padre non funzionava è rimasto nel cassetto per penso vent'anni se non di più recentemente l'ho fatto rimettere a nuovo mi hanno sabbiato il cinturino la cassa era veramente in condizioni pietose adesso sembra effettivamente nuovo il cinturino originale carica manuale il movimento è un 135 041 un bello orologino simpatico come dici tu più che altro simpatico è che i quadranti a nero non se ne vedono tanti cioè come al solito in passato oggi no oggi oggi il nero il blu ma in passato la maggioranza degli orologi erano con quadrante bianco champagne chiaro gold ma neri ce n'erano di meno no bello insomma ci sono legato insomma al valore affettivo perché essendo stato il regalo che fecero a mio padre a 16 anni un nostro zio in particolare che era il che di lavoro faceva il rappresentante omega insomma tanto meglio ecco me lo tengo da conto sempre sempre dal armadio dei ricordi un tisso viso tessi star automatic questo era del padre di mio padre di mio nonno anche questo recentemente l'ho fatto sistemare mi hanno messo un cinturino di pelle andante niente di che va bene il la cassa dietro a una sorta di disegno non so che cosa sia bene un sole qualcosa del genere comunque funziona anche questo fa il suo orologino che avrà penso almeno un 50 anni credo forse anche qualcosa in più eh sì poi un paio di mesi fa ho preso questo sto turmansky by polio è una repro dell'orologio che indossava gagarin al decollo così si dice così dicono monta un vostok 2416 si legge qui il numerino anche se il cellulare non riesce a mettere a fuoco è carino simpatico un bel cinturino spesso in pelle un bello spessore un orologio che diciamo per quello che costa insomma 300 euro più o meno una cosa del genere offre offre sicuramente un bel design molto molto vintage diciamo così me lo me lo metto spesso questo non pensavo ma devo dire che forse è uno di quelli che indosso di più molto bello qualcosa che conosci molto bene Morph questo è stato regalo di mia moglie ai miei 40 anni un bel regalo quindi io ho la versione da 42 del Morph tu credo che abbia recensito la versione più piccola che è uscita poi la 38 mm ma io avendo un polso bello grande mi sta più che bene direi bellissimo cioè questo è veramente un orologio che insomma da cui non mi separerei mai devo dire che mi piace mi piace tantissimo mi piace anche il non so se si riesce a vedere bene il cinturino che è bello bombato veramente veramente un bel pezzo non non pensavo l'avevo visto in foto quando poi l'ho visto dal vero in cui ho nel momento in cui ho scartato la carta caracchio una bella sorpresa ebbè poi vediamo un po' qua c'è qui qualcosa che conosci bene cos'è cos'è ovviamente non poteva mancare speedy preso nel 2020 questo speedmaster credo abbia la versione successiva il mio monta ancora il calibro 1861 petroplexi fondello pieno regalo del mio matrimonio mi sono autoregalato questo splendido orologio e anche da questo qui non mi separerò mai bravo last but not least oggi è arrivato strela uno strela ci avevo messo l'occhio paliot me lo sono regalato niente da dire bravo ho preso la versione da 42 mm bella col calibro storico di polio il 31-33 fondello a vista so che hai recensito questo calibro in qualche tuo video l'avevo già visto qualche tempo fa quando io dico quando le persone mi chiedono i cronografi economici eccolo qua un cronografo a carica manuale il paliot 3133 come calibro che poi vedete lo mettono dentro questo strela qua è anche bello decorato fa il suo come si vuol dire e non dovrebbero costare tanto specie se poi li vai a cercare usati ora questo qua se noi guardiamo quando girerà poi l'orologio lo vedete bello mi piace bello grande c'ha la finestrella data verso il centro nascosta lì facciamo bene a non mettercela con la finestrella data lì però mi piace l'orologio secondo me è spettacolare anche questo serie numerata non so se poi sia vero 400 pezzi secondo me avranno fatti un po' di più comunque sono cose che lasciano il tempo che trovano secondo me l'orologio è bello è funzionale questo click che fa non so se si sente quando parte il cronometro cronografo è veramente un bel pezzo veramente un bel pezzo ultimissimo devo far sistemare questo jazz master che ho preso io a mia moglie nel 2020 perché si è fermato quindi al più presto lo porterò in orologeria e cercherò di farlo di farlo sistemare non si ricarica non so perché la lunetta gira la lunetta niente da fare vedremo grazie davide a presto ciao quella che ti chiami lunetta si chiama rotore di carica si chiama rotore di carica non si carica non lo so avrei provato io penso tu abbia provato a caricarlo manualmente non lo carichi manualmente o automatico o manuale dovrebbe caricarsi se non si carica c'è un problema bravo scoperto troppo calda non so qual è il problema collezione 7 dai spicca quel simpaticissimo mega speedmaster con calibro 1861 e quello maghino ma vintage il tiso vintage dai e marf si diciamo anche che lo strella finale dai su dai insomma un bel 7 te lo sei meritato belli belli tutti soprattutto lo speedmaster va bene lo sappiamo e lo strella devo dirti che lo strella mi ha colpito perché è proprio l'esempio come dicevo prima di quel cronografo a carica manuale che con pochi soldi ti può dare qualche soddisfazione eh ce la può dare la soddisfazione prossimo video ciao Davide sono Filippo ragazzo di 22 anni della provincia di Milano mi ha invitato voglio farti complimenti per il canale grazie e poi di farti vedere quattro orloggi vintage dalla mia raccolta vai il primo è questo dress watch manuale della Ever Ever è stato il mio bisnonno dei primi anni 40 non ho trovato molto sommatico che dovrebbe essere uno dei tanti marchi svizzeri scomparsi sicuramente con la crisi del quarzo eh sì il secondo è sempre l'aceto del mio bisnonno della Lowenthal che come il marchio precedente dovrebbe essere un marchio svizzeri scomparso con la crisi del quarzo è un cronografo monopulsante anche questo dei primi anni 40 bello monopulsante è bello il terzo è il primo acquisto che ho effettuato con i miei soldi volevo un braccialato quindi ho preso questo seco 5 che grazie alla referenza sul fondello sono riuscito a scoprire facilmente tra le tabelle online che è stato prodotto nel luglio del 1985 luglio 85 l'ultimo che è il mio preferito è quello che mi sono fatto regalare per la mia laurea è questo Weiler Cinematic nel 1994 questa è un'edizione limitata infatti è un numero 310 su 999 che come scritto sul fondello ricorda l'Italia campione del mondo nel 1934 il 60esimo anniversario presenta la fibra originale insomma ho cambiato solo il cinturino e perché è stata realizzata questa edizione limitata con il 4 contatori uno con il fuselario infatti in movimento 7,750 che è la complicazione del fuselario allora troviamo la data allora 9 piccoli secondi e in alto possiamo vedere il contatore dei minuti cronografici che per ricordare sempre la partita di calcio era una stazione azzurra diciamo si ferma a 45 minuti questo è stato realizzato come il 60esimo anniversario della vittoria dell'Italia nel 1934 perché nel 1934 la nazionale italiana utilizzava Valervetta come una delle trovate pubblicitarie una delle tante come ad esempio il lancio dei Valervetta della Torre Eiffel per dimostrare la resistenza degli orologi e la durabilità del meccanismo Incaflex diciamo uno dei primi meccanismi durabili resistenti per gli orologi automatici vediamo qua infatti nel libretto originale le firme del mister Pozzo e tutti i campioni della nostra nazionale italiana che insomma dichiaravano come questo trovato pubblicitario di utilizzare Valervetta durante le loro partite e i loro allenamenti qua vediamo Giuseppe Meazza Combi Orsi Cesarini insomma io oltre a essere un grande appassionato di orologi sono un grande appassionato di calcio ed è la nostra nazionale quindi appena l'ho visto me ne sono innamorato e mi sono innamorato per la laurea hai fatto bene grazie mille Davide grazie a te grazie a te praticamente un giovine appassionato di vintage perché hai quattro orologi tutti vintage tra marchi sconosciuti e riconosciuti sto qua l'ultimo Villervetta sì non si chiama il vintage ma mi sembra aver capito che è una riedizione quindi degli anni 90 è una riedizione cioè riedizione sì che va per celebrare il 34 che poi abbiamo visto nel 34 ci meravigliamo al giorno d'oggi il product placement Hamilton nei film Rolex al Gran Premio di Formula 1 nel tennis ognuno ha le sue Omega sulle Coppa America oppure i personaggi importanti che indossano già nel 34 che a noi ci pare quasi impensabile che fossero così smaliziati smaliziati perché adesso il marketing arriva nelle case di tutti sul palmo della mano di tutti col telefono quindi qualsiasi cosa fai la vedi istantaneamente nel 34 la televisione non c'era c'era la carta stampata non c'erano i social era veramente il mondo della comunicazione era veramente limitato c'era la radio da poco c'era la radio ma eppure si premuravano di far vedere di dimostrare ci sono anche le firme le dichiarazioni che i calciatori indossavano il Villervetta ora non so quanta risonanza potesse poi mai avere l'efficacia di questa mossa però intanto lo facevano erano abbastanza avanti come si vede sono più è più un marketing quasi da passaparola devi fare una cosa eclatante che poi viene raccontata semplicemente anche senza immagini buttare giù l'orologio della torre Eiffel e far vedere che alla fine risulta intatto è una cosa che in quel momento chi è presente è presente dell'evento ma poi l'evento viene tramandato vocalmente in maniera scritta e l'importanza un orologio buttato giù dalla torre funziona ancora eccolo qua marketing è così che funziona cosa che al giorno d'oggi insomma è un po' differente vabbè ragazzi mi ho dato il voto un bel 6 un bel 6 6 e mezzo 6 e mezzo alla tua collezione te lo meriti tutto dai un po' striminzita diciamo la verità però 6 6 e mezzo 6 e mezzo ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i videini che abbiamo visto spero che la vostra scimmietta compagna di osservazioni non si sia troppo ingazzurrita perché altrimenti ho divato un copete tu la elimini oppure la nocciolina e per dargli la nocciolina devi uscire andare a gombrare l'orologio ragazzi vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love attra favorita del or l'orologio corita che l'orologio vuoi ca